Ciao amici, una giraffa in plastica killer, lo scrabble vietato in Romania, dei pupazzi sospettati di essere spie, oppure Barbie che ora incute paura. Ecco i giocattoli pericolosi che sono stati vietati alla vendita nel mondo. Sei fan di Barbie e ultimamente hai sentito parlare della nuova Barbie e della confezione di accessori che servono per occuparsi del suo cane? Adori così tanto questo giocattolo che decidi di ordinarne uno per il compleanno di tua nipote. Ma ecco che mentre scorri le pagine per capitare sul sito giusto, vieni a sapere che Barbie e Tanner Playsets sono stati ritirati dal mercato. Cercando la causa, vieni a sapere che gli accessori che vanno con Barbie sono valutati troppo pericolosi per il fatto che sono troppo piccoli, quindi possono essere facilmente ingeriti dai bambini in tenera età, cosa che causerebbe dei soffocamenti. Questi piccoli accessori contengono anche calamite che potrebbero attirarsi nello stomaco e provocare così delle perforazioni o dei blocchi intestinali mortali. Così cambi idea velocemente. Alla fine una buona torta le farà altrettanto piacere. È il compleanno di tua figlia e quest'ultima ti chiede un forno per completare la sua cucina. Un forno? Beh, ovviamente. Decidi di regalarle il famoso Easy Bake Oven per farle piacere. Purtroppo per la tua piccola non avrai il forno dei suoi sogni, visto che quest'ultimo non esiste più dal 2007 e quando saprai il perché ringrazierai Dio e anche me nel frattempo. Questo forno della marca Asbro aveva la particolarità di scaldarsi facilmente, infatti poteva raggiungere i 350 gradi, ossia per cuocere tre tacchini del ringraziamento contemporaneamente. Inoltre, Easy Bake ha ricevuto 249 rapporti di bambini incastrandosi le mani e le dita nell'apertura del forno, 77 rapporti di ustioni, di cui 16 erano di secondo e terzo grado. La marca ha anche ricevuto un rapporto che riferiva di un'ustione grave che ha richiesto l'amputazione parziale di un dito in una bambina di 5 anni. Ti fa venire la pelle d'oca, vero? Beh, considerati fortunato che questo giocattolo sia stato ritirato dal mercato. Forse ora desideri iniziarla ai pattini. Molto più sicuro che un forno in plastica. Hai sicuramente sentito parlare di Anna Montana. Sono sicuro che non ti sei mai perso nessuno dei suoi episodi e che hai una bella collezione di Anna Montana. Scommetto che hai anche giocato al gioco Anna Montana Popstar Game. Sapevi che questo gioco fosse estremamente pericoloso? Quando ti dirò perché non ci crederai. Sai, senza dubbio che l'Accademia Americana dei Pediatri raccomanda che nessun giocattolo per bambino contenga più di 40 parti per milione di piombo. Ecco perché le autorità interessate si sono allarmate quando i test in laboratorio hanno rivelato che il gioco di carte Anna Montana Popstar contenesse 75 volte in più il piombo della media consentita. Se ti parlo ancora al presente è perché, sorprendentemente, il gioco non è stato ancora ritirato dal mercato. La causa è che il piombo sia contenuto nel vinile della carta e non nella vernice, cosa che ha lasciato il diritto al fabbricante di lasciare il prodotto sul mercato. Ma eccoti almeno avvisato, ora sai che bisogna controllare il giocattolo prima di comprarlo, anche se ti sembra inoffensivo. Sei ospite per qualche giorno da un amico a Brasilia, a capitale del Brasile, e per ringraziarlo decidi di regalare un giocattolo a suo figlio. Compri il giocattolo classico, che piace a tutti i bambini maschi, una pistola di plastica, ma ecco che alla dogana dall'aeroporto vieni arrestato per possesso di armi. Pensi in un primo momento che sarà un equivoco, ma poi vieni a sapere che in Brasile, paese in cui il tasso di omicidi è uno dei più elevati del mondo, le armi da fuoco di plastica sono completamente vietate. E ha ragione, questa legge in vigore è stata stabilita per non insegnare la violenza ai bambini, ma anche per far sì che capiscano che le armi non sono giocattoli, ma strumenti per togliere delle vite. Giocare con esse sarebbe in qualche modo banalizzare l'atto criminale. Sei disgustato nel dover entrare a mani vuote, ma anche una scatola di cioccolatini andrà benissimo. Sei in viaggio d'affari in Romania e siccome hai degli amici ai quattro angoli del mondo, i tuoi amici rumeni, italofoni, ti hanno gentilmente proposto di trascorrere qualche notte a casa loro. Una sera, dopo aver cenato insieme, proponi loro una piccola serata di giochi di società. Si dà il caso che non viaggi mai senza il tuo piccolo Scrabble, versione da viaggio. Così tiri fuori lo Scrabble e qui i tuoi amici ti chiedono cos'è. Non capisci nulla, chi non conosce lo Scrabble al giorno d'oggi? Beh, sappi che dagli anni Ottanta fino a qualche anno fa era assolutamente vietato per i rumeni giocare a Scrabble. Tra l'altro è il presidente rumeno del periodo, Nicole Ceaucescu, che lo aveva vietato perché secondo lui questo gioco di società era troppo intellettuale e troppo provocatorio. Aveva anche definito il tavolo da gioco e le sue intramontabili lettere in legno come un male eversivo. Beh, nel frattempo il gioco è stato rimesso sul mercato, ma si vede che i tuoi amici non hanno avuto la stessa infanzia della tua. Sei un po' deluso nel non poterti divertire con lo Scrabble questa sera, ma sarebbe stato in ogni caso molto noioso giocare con dei principianti. Metti via il tavolo da gioco e proponi loro un film su Netflix. Hai sicuramente già sentito parlare dei furbi, questi piccoli mostri di peluche talmente brutti e carini al contempo. Anche tu ci avrai sicuramente giocato quando eri piccolo, ma sai che nel 1999 negli Stati Uniti, precisamente nel perimetro di alcuni servizi governativi come l'NSA e il Pentagono, questi piccoli pupazzi orribili sono stati vietati. Al contempo mi dirai cosa questi maledetti pupazzi ci farebbero nella NSA o nel Pentagono. È esattamente la stessa domanda che mi faccio anch'io. Poco importa. Ti piacerebbe sapere perché sono stati vietati? Scommetto che mi risponderai che è perché sono troppo brutti. Beh, non proprio. Siamo almeno d'accordo sul fatto che non siano molto carini da vedere, ma la ragione è tutt'altra. Queste bambole orrende sono state vietate nei servizi di intelligence degli Stati Uniti per la semplice ragione che al loro interno eventuali telecamere sarebbero state nascoste per spiare e filmare delle conversazioni segrete, e qui ancora nulla è stato davvero dimostrato. Sono tutte supposizioni. Ecco ti avvisato, nel caso in cui un giorno tu decida di andare al Pentagono per una ragione o per l'altra e hai per caso l'idea di portarti dietro con te il tuo furbi, non lo fare. Il bambino di tua sorella maggiore trascorre le vacanze con te in Italia e osservi che inizi a crescere, sei felice di assistere ai suoi primi passi, ma consideri comunque che abbia bisogno di un appoggio. È chiaro, questo bebè ha bisogno di farsi aiutare per camminare, perché non prendergli un girello, prima che ritorni a casa in Canada e ne compri uno, orgoglioso di essere lo zio più fico del mondo. Ma ecco che tua sorella non sembra così felice nel vedere il regalo. Molto imbarazzata ti informa che dovrai restituire il girello al negozio. Sei sorpreso di sentire questo e le chiedi qual è la ragione. Ti fa sapere che in Canada i girelli, gli yopala e i giocattoli di questo genere sono assolutamente vietati nell'essere venduti dal 2004. Uno studio americano ha analizzato gli incidenti di questi prodotti con le rotelle, che consentono ai bambini piccoli, che non sanno ancora camminare bene, di beneficiare di appoggi nei loro primi movimenti. Ha dedotto che fossero troppo pericolosi. Lo studio ha seguito dei bebè di 15 mesi che sono stati presi in carico al pronto soccorso dopo aver avuto degli incidenti con il loro girello, tra il 1990 e il 2014. Complessivamente, 230.676 casi sono stati registrati, un dato allarmante per i pediatri. I bambini sono stati prevalentemente colpiti alla testa e al collo, delle zone molto fragili per dei bambini di quella età, dopo essere caduti dalle scale. In Canada i girelli e gli yopala sono stati vietati per la ragione principale che accelerano la velocità di spostamento del bebè e rendono quindi l'intervento dei genitori più difficile. Questo ti inorridisce? Non è sorprendente. Non hai nessuna voglia di far del male al tuo piccolo nipote? Tra l'altro, hai velocemente cambiato idea e preferisci piuttosto comprargli altro, come raccomanda l'Associazione Europea per la Sicurezza dei Bambini e l'ANEC, un'associazione a difesa dei consumatori. Eccoti avvisato, fai buone azioni e informa il tuo entourage. La tua migliore amica ha partorito un meraviglioso bambino e sei la più felice delle madrine. Decidi di iniziare fin da subito a viziare il tuo tesorino e gli compri la famosa Sophie la giraffa, che tutti comprano ai neonati. Ma sapevi che facendo questo mettevi in pericolo il bambino? Cosa c'entra, mi dirai? Beh, te lo sto per dire. Qualche anno fa, l'associazione francese UFC Quechaudsart ha accusato la più famosa delle giraffe in plastica di contenere tracce di un composto cancerogeno, le nitrosammine. Questa sostanza è naturalmente presente nell'alimentazione e inoffensiva a bassa esposizione, ma siccome i bebè tendono a masticare tutta la giornata il loro giocattolo preferito, sono quindi altamente esposti a questa sostanza. È vero che nel frattempo il produttore esavojardo del famoso giocattolo di prima infanzia ha spazzato via l'accusa dichiarando che Sophie fosse stata fabbricata nel rispetto rigoroso delle norme europee e mondiali. Ha aggiunto che tutti i rapporti di analisi, senza eccezione, attestano questo e dimostrano che non ci sia nessun pericolo per i bebè. Ora ti resta solo da scegliere da che parte stare. Sei indeciso? Perché non ti orienteresti piuttosto verso un girello? Ah no, avevo dimenticato, abbiamo detto che i girelli erano anche loro i nefasti per i bebè. Alla fine, cosa scegliere? Ora sai che una piccola giraffa in plastica rappresenta esattamente lo stesso pericolo di una bottiglia di candeggina per un bebè. Ami giocare con i bambini e i loro giocattoli ti divertono ancora. È per questo motivo che insisti con il tuo piccolo nipote nel giocare con lui al suo famoso cocco dentista. Se ti dovessi dare un consiglio, ti direi di non giocare. In apparenza il gioco sembra inoffensivo e molto divertente. Consiste nel premere a turno sui denti del coccodrillo e quando premi sul dente che fa male, ti morde. Fin qui tutto bene. Ma se il tuo piccolo nipote è un vero furfante e adora spingere le cose all'estremo, ti proporrà di installare lame di rasoi, puntine o chiodi sui denti, in modo che tu possa provare bene il morso. Solo l'idea di farti piantare un chiodino nel dito ti fa digrignare i denti. Allora pensi che questo gioco dovrebbe essere ritirato dal mercato con urgenza. Cambi completamente idea e preferisci tornare presso gli adulti noiosi, che parlano di corse di cavalli e di inflazione del prezzo del petrolio. Anche la cultura è una cosa buona. Cosa ne pensi di questi giocattoli pericolosi? Quale consideri quello più pericoloso? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto. Grazie a tutti.